Sindaco, sono passati quasi tre anni da quel 24 settembre che ha visto gran parte del territorio che si trova sopra calci, bruciato da un fuoco che ha tolto la vita a Ulivi, a Pinete. Piano piano il territorio però sta ricrescendo, la natura sta rifacendo il suo corso e le colline stanno di nuovo diventando verdi. Sì, la natura è più forte di tutto, lo diciamo sempre e della verità. Il verde ha cominciato a farsi strada in mezzo al nero, a quel nero davvero brutto e anche doloroso per tutti noi che abbiamo vissuto con questa paura, con questa chiazza nera che faceva paura per le piogge, per la tenuta del terreno per tanto tempo. Aveva cominciato subito il verde a riaffiorare, però insomma ci è voluto veramente un grande impegno, tanti cantieri per le zone più critiche e poi come si diceva la forza della natura. Una forza della natura che non trova ostacoli e dà vita ad un nuovo sottobosco. 1200 ettari andarono bruciati, forse tra 30 anni si potrà osservare un monte Serra ricco di pinete come quelle di un tempo. Ed è proprio per salvaguardare questo patrimonio naturale che nella sala operativa del centro intercomunale antincendio boschivo e protezione civile si concentra all'occhio del bosco, un monitoraggio continuo attraverso telecamere su tutto il monte Pisano. Quella che oggi è più consapevole è la popolazione. Per fortuna il ritorno del verde poi ha fatto tornare anche l'attrattiva. Giusto la giornata di Ferragosto avevamo 5.000 persone su questo monte e sempre grazie a quello straordinario volontariato antincendio boschivo, protezione civile, le abbiamo fatte stare in sicurezza su questo territorio che è comunque bello e che invito a venire a scoprire e riscoprire.